E' finita 2-2 la sfida tra Arezzo e Sassari Torres, valevole per il nonno turno del campionato di Serie B femminile. Ospiti avanti due volte, Amaranto, che nonostante una prestazione poco brillante, non hanno mollato e sono riusciti ad evitare il KO grazie alla fondamentale doppietta realizzata da Gnisci, subentrata a gara in corso. Primo tempo decisamente avaro di emozioni, con due soli squilli di marca Amaranto. Al 31esimo il cross di Costantino per Ceccarelli, che non riesce nella deviazione vincente. E poi al 45esimo la velenosa punizione di Vicchiarello, alzata sopra la traversa da Sceica. Sicuramente più intensa la ripresa con le due squadre meno contratte rispetto ai 45 minuti iniziali. L'Arezzo si rende pericolosa all'ottavo con il cross di Lorieri e l'incornata fuori misura di Ceccarelli. Ma al 16esimo è la Torres a portarsi in vantaggio con Devoto, che sfrutta l'errata uscita dal basso dell'Amaranto, trovando una conclusione imparabile per Zacchi. La CF si riversa in avanti, ma fatica a reagire e al 27esimo rischia ancora quando il tiro della solita Devoto viene deviato in corner. A cambiare le sorti del match è l'ingresso in campo di Gnisci, che al 31esimo realizza il pari capitalizzando il cross di Tuteri, con una deviazione ravvicinata. L'Amaranto credono nel sorpasso, ma al 40esimo vanno di nuovo in svantaggio, quando Weidhofer crossa per Carrozzo, che con una conclusione precisa sigla il più classico gol dell'ex. Sembra la rete decisiva, ma l'Arezzo non ci sta e al secondo minuto di recupero raggiunge il definitivo pari con il traversone di Bassano, che attraversa l'area piccola trovando il tocco vincente di Gnisci. Doppietta pesante e importante che permette all'Amaranto di evitare il KO e per come si era messa la gara, e questa la nota più positiva.